Il canottiere baresi Antonio Mauro Giovanni, classe 65, è Coach of the Year, il tecnico dell'anno. Il nuovo prestigioso riconoscimento gli è stato conferito dal Rowling Western Australia. Il premio per eccellenza, integrità e lavoro di squadra giunge anche alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi due anni di lavoro, come allenatore della Nazionale Australiana che ha conquistato due ori a due successivi campionati del mondo e rappresenta un importante traguardo alla soglia dei 50 anni. Il riconoscimento fa sapere Mauro Giovanni ha un significato importante per me. L'ottenimento di un award è sempre solo possibile grazie alla collaborazione e all'aiuto di colleghi esperti e di atleti validi. Questo in particolare è per lui il terzo premio dopo l'oro dello scorso anno e il bronzo di due anni fa ed è arrivato a coronamento in un'esperienza lavorativa in Australia che si interrompe per l'inizio di un nuovo percorso in Irlanda che lo vedrà nel ruolo di High Performance Director fino alle Olimpiadi di Tokyo. Una figura di pregio e spessore è quella di Mauro Giovanni, forte di una carriera agonistica internazionale ed olimpionica, increscendo e di tutto rispetto partita nel Cusbari e proseguita nelle Fiamme Gialle, poi la carriera di allenatore. Nonostante i suoi impegni in giro per il mondo, gli richiedano di vivere oramai più all'estero che in Italia, Mauro Giovanni tiene particolarmente al suo rapporto con la Puglia, con Bari e con l'Università degli Studi Aldomoro, per la quale, su invito del magnifico rettore Uricchio, sarà la guida del prestigioso corso di alta formazione professionale Team Leadership and Human Resource.